Per il bentornato a casa al San Nicola occorrerà aspettare il 14 settembre, data di Bari-Mantova, già nei 50 minuti, recupero incluso, giocati sul terreno della Sampdoria. Nunzio Lella ha lasciato però intendere che mano potrà dare alla causa, con Giacomo Manzari e Nicola Bellomo e uno dei tre baresi in squadra, un valore da tramandare. Una piazza ambiziosa, una piazza con un tifo incredibile, infatti ci ho giocato contro questi anni e ogni volta che ho messo piede nello stadio è stato qualcosa di incredibile, avevo tantissima voglia di giocare per questa maglia. Quindi noi baresi possiamo non fare altro che dare anche agli altri nostri compagni quella baresità che abbiamo dentro e quella voglia di onorare sempre la maglia e sudarla. Per l'esordio con il bianco-rosso della prima squadra sulle spalle, il centrocampista nato a Santeramo in Colle ha avuto una dedica speciale rivolta a Mario Cardinale, storico allenatore del calcio giovanile barese scomparso a marzo del 2023 che tra i suoi talenti ha lanciato anche Lella. Quando ero piccolo giocavo nel Santeramo, lui mi ha scoperto lì nel Santeramo, avevo l'età di otto anni e lui ha subito deciso di farmi giocare con quelli di tre anni più grandi di me, nonostante fossi comunque un ragazzino che le prendeva e basta, però lui mi ha sempre seguito, mi ha sempre supportato. Quando ho fatto l'esordio, poi a fine partita ci ho pensato e gli ho fatto una preghiera per lui e per me è stata una persona fondamentale per la mia carriera. Nel curriculum del 24enne due campionati vinti a Cagliari prima e Venezia poi in squadra aggiungerà centimetri in ritmo ma anche la consapevolezza di chissà cosa significa puntare in alto. Sono riuscito a vincere negli ultimi due anni il campionato, posso dare ai miei compagni la mentalità magari vincente sicuramente non sono un giocatore che si mette degli obiettivi personali, preferisco sicuramente magari vincere qualche trofeo vincere di squadra. Alla prima con il Bari ha giocato con Benali prima e Lulic poi al suo fianco, centrocampista moderno. Lella non ha dubbi sulla versatilità che potrà garantire al progetto tattico griffato Moreno Longo. Posso fare tanti ruoli, però sicuramente il ruolo dove posso esprimermi meglio è da mezzala. Ho fatto quello per parecchi anni, soprattutto a sinistra. Il mister mi ha detto da subito che la squadra avrebbe giocato a due e mezzo. Io sinceramente non ho problemi anche per fare questo ruolo perché adesso con il mister Di Francesco a Venezia ho fatto praticamente sempre quello. C'è poi un debito in sospeso con Bari da saldare. L'11 giugno 2023 era in campo con la maglia del Cagliari che al San Nicola festeggiò il salto in Serie A. A discapito proprio dei bianco-rossi una notte di sentimenti contrastanti. Anche per me non è stata facile, c'erano dei sentimenti contrastanti. Io sono un professionista, ho fatto quello che dovevo, quindi è normale che c'è il dispiacere, c'è stato il dispiacere dopo.